La gattina da poco presa ci siamo resi conto che ha il mento di sotto scollato è raffreddata cotta e combinata malissimo ma è buonissima bella amore, tieni un pochino di questa ti piace? assaggia? è buona vero amore? chissà che schifezza hai mangiato in strada tu bella cucciola pesa 900 grammi eh? 900 grammi di ossicina è buonissima ora sto mento essendo così piccola dovrebbe saldarsi da solo guarda qua come ce l'hai scollato e come hanno fatto a rompertelo una patatina un po' autore un po' autore un po' autore Grazie a tutti.